Ci siamo cari amici di SOS Danza, è giunto il momento di svelarvi la nuova stagione del nostro canale e come vedete da questo sfondo ovviamente stiamo parlando della nostra serie dedicata all'esercizio fisico, abbiamo visto il foam roller nelle ultime puntate della scorsa stagione e in questa stagione Stefano ci andrà a spiegare cose ancora più fighe per questa nuova stagione abbiamo cercato di aumentare ancora di più la qualità delle nostre produzioni abbiamo cercato di migliorare il nostro video, l'audio e di darvi un montaggio di qualità superiore questo perché nel particolare della serie Allena Danza crediamo che la conoscenza del corpo di come lavorarlo, di come migliorarlo, di come recuperare sia fondamentale per ogni ballerino e crediamo che ancora ci sia veramente tanta 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 poca conoscenza in questo ambito quindi grazie all'head coach dell'area 46 Stefano Tronconi e al suo staff riprendiamo il viaggio nelle fantastiche meccaniche del corpo umano se vi ricordate come avevo detto all'inizio della scorsa stagione il percorso Allena Danza è stato creato scientificamente da Stefano Tronconi per lavorare sotto tre differenti aspetti il lavoro sulla forza e sul tono muscolare il lavoro fisico sulla resistenza e quindi sulla capacità aerobica e su tutta quella componente che è utilissima per noi ballerini e non per ultimo il recupero una cosa quasi ignosa per noi ballerini ma fondamentale per preservare il nostro organismo molti degli esercizi che vi sono stati proposti nel corso della prima stagione capisco che erano un pochino complessi da digerire questo non perché siamo cattivi e bastardi ma bensì perché questa prima stagione ha gettato le basi per poi costruire uno sviluppo nel corso delle stagioni successive come vedrete nel corso di queste puntate della nuova stagione spesso dovrete tornare a pescare dei vecchi video perché per fare le esercitazioni più avanzate esercizi nuovi o anche protocolli allenanti per la resistenza e la capacità aerobica saranno necessarie come prerequisito le tecniche spiegate negli esercizi della prima stagione tutte le abilità relative alla remata e al rematore per quanto riguarda la mobilità del torace la tenuta del centro e la cosiddetta postura neutra fondamentale per eseguire al meglio l'esercizio e tutti gli altri esercizi che sono stati proposti nel corso della prima stagione quindi ripescate i video della prima stagione dell'alena danza perché questo viaggio meraviglioso che stiamo per intraprendere partirà da quelle solide fondamenta colgo l'occasione per ringraziare a nome mio e di Simona Stefano Tronconi e tutta l'area 46 Duccio, Sara e Vincenzo sì perché in questa seconda stagione non ci sarà più solo Duccio ma ci saranno ancora due protagonisti d'eccezione Sara e Vincenzo che vi aiuteranno a comprendere ancora più esercizi e non dovrei ringraziarlo solo io Stefano Tronconi ma dovreste ringraziarlo a maggior ragione voi questo perché ogni mese vi mostrerà un nuovo esercizio con delle competenze, delle conoscenze veramente di alto livello non i classici esercizietti da palestra quegli esercizi dove vi viene l'istruttore di sala a farveli segna sulla scheda e poi voi li potete seguire come vi pare che li potete praticare mille anni e non vedrete mai risultati Stefano ogni puntata vi insegnerà degli esercizi veramente ma veramente complessi ve li spiegherà nel dettaglio passo passo facendovi percepire le sensazioni corrette e gli errori che potrebbero nascere nel tentativo di farle l'esercizio corretto ognuno di voi con le nozioni che Stefano dona ogni mese potrà costruirsi una sorta di allenamento un allenamento variegato a 360 gradi e vi potrà permettere di sviluppare la forza, la resistenza e anche di recuperare donandovi lo stimolo per migliorare il vostro fisico, il vostro corpo e anche la vostra attitudine siete pronti per questo viaggio spettacolare? verso l'infinito e oltre allora non vi resta che iscrivervi al nostro canale YouTube mettere like ad ogni nostro video e commentare in modo che più cresce la serie Allena Danza e più potremo portare contenuti spettacolari questa stagione come vedrete sarà di livello superiore alla precedente ma abbiamo già in testa una terza che supererà ancora di più le aspettative per far sì che però questa terza stagione venga alla luce abbiamo bisogno del vostro aiuto quindi iscrivetevi, like e condividete ogni video non state meno a guardare cos'è, appena vedete un video di SOS Danza ma like, iscriviti, condividi subito, commento, via, pioggia e noi non tradiremo mai le vostre aspettative come se non bastasse poi non è che parte solo la stagione 2 di Allena Danza nello stesso istante sto dando l'inizio anche alla nuova stagione di Danza Express e del mondo perduto quindi da oggi in poi ci sarà una fioggia di nuovi video di alta qualità un qualcosa di mai visto dedicato a voi ballerini agli amanti del ballo e a chi desidera capire che cosa è veramente la danza sportiva e il ballo in coppia quindi cari amici di SOS Danza diamo il via a questa meravigliosa stagione numero 2 del nostro canale e mi raccomando voglio sentire forte forte il vostro sostegno e mi raccomando voglio sentire forte il nostro canale